Buonasera dall'app creativo, attività in forza, il punto app creativo, mamma mia, come sono carichi qui dall'app creativo, comune di carne, è meraviglia, guardate, guardate, c'è la vetrina, ma non si può riprendere la vetrina, il punto app creativo, come sono carichi all'app creativo, mamma mia, c'è una nigeria, ci sono grandi personalità, c'è il momento del team building, c'è il momento del, c'è un momento per tutto, l'app creativo, guardate, la magia, il palazzo, guardate, guardate, guardate che bel palazzo, guardate che bel palazzo, devo ritornare a riprendere il palazzo, guardate, c'è una bandiera gialla là su, quanto sono carichi l'app creativo, eh, fra il ridicolo e il grosso, giorno e notte, assistiamo a situazioni tra il ridicolo e il grosso, di bellissimi creativi appunto, un evento privato, l'app creativo, guardate, il punto app creativo, ma che grandi che siete, l'app creativo, ma chissà, ma chissà se siamo autorizzati a far vedere il luogo, parati con soldi pubblici per finanziare i progetti dei giovani, chissà se siamo autorizzati, eh, guardate, eh, ci sono i diritti di immagine, eh, l'app creativo, eh, 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 è così, l'app creativo, l'albo pretorio, l'app creativo, siamo il sindaco, guardate, albo pretorio, comune di Parma, guardate che bel palazzo, bene, bene, collegato a www.albo pretorio.it e adesso andiamo al ristorante. Grazie.